Uno bisognerà vincere ad Istanbul, compitino non semplice, neppure impossibile. Signori, subito a salve, brutto segno. Bologna in difficoltà, senza Marocchi, con Zé Elias in precarie condizioni. Il brasiliano lascerà posto a Vome dopo 45 minuti. I rosso-blu subiscono il ritmo camomilla imposto dai turchi, che sul piano del palleggio ci sanno fare. Nel primo tempo il pericolo più grande si chiama Freddo. Bologna in vantaggio al ventunesimo della ripresa, assist di Carlo Nervo per Beppe Signori. I tifosi del Dallara si dimenticano dei loro piedi in offerta nel reparto surgelati. C'è anche la possibilità di raddoppio. Eriberto, appena entrato per Signori, si presenta solo davanti a Taffareo. Un'indegna frittella nelle braccia del connazionale, commenti vietati ai minori dall'Andrea Costa. Se non la metti dentro tu ci pensano gli altri, è una vecchia norma sempre in agguato. A Can Sucur il freddo ai piedi torna insopportabile. Minuto 46, la fiondata di Carlo Nervo è proprio bella. Sulla linea ci pensa Cappone. È andata male e ad Istanbul la pagnotta sarà dura. Nella gelida serata bolognese continua l'imbattibilità interna dei Rosso Blu, che nelle Coppe Europee, su 30 incontri giocati, hanno ottenuto 19 vittorie e 11 pareggi. Ma l'1-1 contro i turchi delle Galatasarai non premia di certo il gioco degli uomini di Guidolin, che forse avrebbero meritato qualcosa di più. Non partono male i Felsini e i Consignori, che lanciato in contropiede si vede parare il tiro da Taffare. Alla mezz'ora mischia in area delle Galatasarai. L'arbitro non vede un fallo da rigore su ventola e Signori sciupa malamente. Una buona occasione. Gli ospiti si fanno vedere solo lo scadere del primo tempo, con questo tiro di Sucur che finisce l'arte. Anche se il Bologna soffre il pressing avversario, sono sempre i Felsini a presentarsi davanti alla porta di Taffare. Alla ventiduesimo si rimessa a laterale di Vomè ed una serie di sponde. Il pallone giunge sul piede destro di Signori, che insacca la rete dell'1-0. Alla mezz'ora Eriberto in contropiede spreca la più clamorosa delle occasioni. E come vuole la legge del calcio, gli ospiti, pochi istanti, più tardi, pareggiano con un colpo di testa di Sucur. In pieno recupero, Capone sulla linea, respinge un tiro violentissimo di Derdo, destinato in rete. Noi le occasioni le abbiamo avute, quindi la partita è stata giocata, la squadra ha fatto il suo dovere, il proprio dovere, fino in fondo. Quindi da questo punto di vista sono molto soddisfatto. Il rammarico è per un risultato che è bugiardo, indubbiamente. E tutto sommato però ve la giocherete, come ha detto lei, a Istamu? Questo è chiaro. È vero che lo 0-0 basta a loro, può bastare per loro, ma noi dovremmo pensare che dobbiamo comunque fare gol. Questo magari poco, ma è già un vantaggio, sapere che se vogliamo passare almeno un gol lo dobbiamo fare. Io sono ancora fiducioso perché comunque andiamo là, non sarà subito un assedio, perché se noi vincevamo questa partita andavamo là e dal primo minuto ci mettevano forse sotto. Così a livello forse mentale loro sono un po' più rilassati e quindi che se magari un gol al novantesimo. Non potevi fare nulla sul suo cuore lasciato liberissimo in area. Eravamo addirittura in inferiorità numerica, sia su quello che ha fatto il cross che il suo cuore, che a Cana ha fatto gol. Adesso sicuramente abbiamo sbagliato noi, oltre che l'azione del 2-0 potevamo fare e mi hanno preso questo gol pesantissimo.